Milano, Di Maio, non lasceremo il paese nel caos Luigi Di Maio a Milano, nella sede di Confcommercio, ospite del presidente Carlo Sangalli, si presenta sorridente e abbronzato Nulla a che vedere con il volto tirato del suo dirimpettaio leghista, Matteo Salvini Il leader 5 stelle rassiccedura innanzitutto sulle prossime tappe, il 23 marzo si eleggeranno i presidenti delle due camere e noi siamo siamo disposti a trattare con tutti Il candidato presidente del consiglio soprattutto conferma che il suo movimento vuole dare certezza a chi fa investimenti, e che per questo vuole chiedere subito che le clausole dell'aumento IVA siano subito disinnescate Noi vogliamo interloquire con tutti ma in modo fermo e collaborativo Di Maio si lancia in una sua analisi del voto che secondo lui è post ideologico Il voto dimostra che i cittadini chiedono soluzioni per i problemi rimasti irrisolti Noi crediamo nella Flex Security non nel dare soldi a pioggia, noi vogliamo incrociare domanda e offerta di lavoro Nessuno resterà sul divano Noi crediamoedenvi Noi crediamo bene Noi crediamo Noi crediamo Per favore Noi crediamo Noi crediamo